Il mese di gennaio è stato per Bitcoin senza dubbio uno dei mesi più importanti della storia del mercato delle criptovalute oltre che di Bitcoin perché è avvenuta l'approvazione degli ETF Spot Bitcoin. Una di quelle cose che aspettavamo veramente da tantissimo tempo è che ha innescato dopo qualche giorno di prese di beneficio ha innescato una fase rialzista abbastanza sostenuta. E solo in questi ultimi giorni si sta andando a verificare invece un leggero sell off che comunque può diventare anche preoccupante se preso da alcuni punti di vista soprattutto da un punto di vista tecnico e soprattutto se i prezzi attuali non mantengono determinati livelli di supporto. Ma questa spinta legata agli ETF di Bitcoin si è esaurita? Che cosa ha decretato questa spinta rialzista di Bitcoin? Chi ha comprato veramente Bitcoin negli ETF in queste fasi? Sono stati gli istituzionali? Sono stati i retail? Quali dati abbiamo? Che cosa sta succedendo negli inflow in questi ultimi giorni? E poi ovviamente come dobbiamo porci? In che ottica dobbiamo porci nelle prossime settimane nel considerare questo evento? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video di focus sugli ETF. Andiamo a rivedere quello che è l'attuale situazione dopo circa due mesi e mezzo di approvazione degli ETF di Bitcoin e andiamo a comprendere se effettivamente questa fase può essere definita come una prima fase messa in atto. Intanto parliamo di quelli che sono stati gli ETF di Bitcoin. Successo sì, successo no. Allora, da un punto di vista grafico è evidente il successo degli ETF di Bitcoin relativamente all'incremento di prezzo in tutto il settore delle cripto, ma specificatamente proprio su Bitcoin. Dal giorno dell'approvazione, infatti, i prezzi di Bitcoin sono i primi ascesi per la questione del deflusso legato alla Grayscale, cioè legato al fatto che Grayscale vendeva una parte dei Bitcoin in quella fase lì, tra le altre cose è anche una parte visibile in questo grafico. Si vede infatti in questi punti, in questi giorni iniziali, il deflusso di Bitcoin, questa è una tabella che parla di Bitcoin, non di dollari, era visibile in questa zona. Ma dopo ovviamente questa fase, quello che siamo andati a vedere in pratica è stata una ripresa notevole dei prezzi, perché poi i giorni successivi hanno dimostrato anche un afflusso notevole invece di Bitcoin, con tutti i giorni positivi e anche numeri importanti, qui 10-11.000 Bitcoin, insomma sono numeri notevoli, quindi niente da invidiare. Quindi il successo di Bitcoin è senza dubbio avvenuto in termini di ETF e gli ETF hanno causato un incremento di prezzo notevole per quanto riguarda questa fase. C'è però da chiedersi se appunto questa fase sia stata solo una fase iniziale che poi non proseguirà o meno, e qui le risposte le potremmo avere andando a studiare quelli che sono per esempio i dati che attualmente abbiamo, che possono darci una direzionalità su chi effettivamente ha comprato Bitcoin in questo periodo, per comprendere anche chi ancora deve entrare, quanto margini abbiamo e poi alcune riflessioni legate alla questione se questa fase attuale è una fase di creazione di un mercato come quello delle cripto, che è un mercato di nicchia piccolo solo per pochi, e istituzionalizzare questo mercato e quindi passeranno un tot di anni, già ve lo anticipo, oppure questa è una fase di cosiddetto pump iniziale che poi però lascia un po' poco a desiderare. Andiamo a vedere alcuni dati che secondo me sono estremamente rilevanti. In primis il dato relativo al flusso, quindi da inizio dell'anno, i flow di Bitcoin sono stati al pari con quelli che sono i flow dei più importanti ETF del mondo. Adesso vi dico cosa sono, comunque qui abbiamo i bit di BlackRock e FBTC di Fidelity, che hanno avuto degli inflow da inizio anno in termini di, in questo caso milioni di dollari, che tengono il passo in pratica con i più grandi ETF del mondo. E questa è una cosa molto importante, perché tengono il passo con il VOO e i BBB, che sono degli ETF importantissimi sulla SP500, per esempio il VOO e il Vanguard SP500 ETF, il più capitalizzato e più famoso di tutti, anche il primo se non sbaglio, l'iShare Core SP500 e invece è l'IVB e poi abbiamo anche quello che sta a metrà tra i BIT e FBTC, che è il BTI, che è un altro ETF importante sulle stock relative all'intero mercato. Quindi sono degli ETF importantissimi e soprattutto estremamente rilevanti, perché riguardano quello che è l'intero applusso monetario in termini di milioni di dollari verso i mercati risk on, cioè quelli azionari, e scusa le commodity in questo caso, e insomma il paragone ragazzi è sbalorditivo, senza ombra di dubbio da inizio anno gli ETF di Bitcoin hanno dimostrato un grandissimo successo, perché entrare nelle classifiche dei top ETF in termini di flow dall'inizio dell'anno e fare il paragone addirittura con ETF azionari è notevole. C'è da fare anche una precisazione su questa cosa, gli ETF come gli SP500 eccetera sono ETF che esistono da veramente decine di anni, quindi la questione è ovviamente anche considerare che il loro attuale flow relativamente a queste fasi è anche dovuto a un mantenimento, chiamiamolo così, è un flow di mantenimento, cioè un andamento normale, forse neanche tanto stimolato dall'attuale situazione dei mercati finanziari che sono ai top per esempio attualmente, quindi magari molti hanno anche paura di entrare ai top, quindi ok, hanno dei flow positivi, però sono dei flow che sono da inserire all'interno di flow di milioni di dollari normali, cioè senza boom iniziale, mentre quelli di Bitcoin a differenza sono dei flow che invece derivano da un boom iniziale, e quindi secondo me il paragone ci sta nel rappresentare, nell'avere l'idea che Bitcoin e ETF sono stati un successo in questi primi due mesi, ma non ci sta nel dire che questo ETF di Bitcoin al momento può essere paragonato effettivamente ai flow degli SP500 e delle stock, perché quelli sono flow di mantenimento, ce lo ripeto, sono flow in pratica normali, costanti, mentre quello di Bitcoin in questo momento è stato proprio il flow iniziale, che di solito ha un pump proprio per la creazione, perché il primo dotto precedentemente non c'era. Il problema è, verranno mantenuti gli stessi tassi di aggiunta di capitali all'interno degli ETF di Bitcoin anche nei mesi successivi, anche nei prossimi anni? Questa è la domanda, cioè questa tabellina dovremmo andarla a vedere fra un anno, se i BIT ed FBTC si manterranno all'interno di questa struttura. In ogni caso il Pound Asset Under Management sono notevolmente differenti, come vedete anche in termini di capitali sono proprio, cioè qui siamo molto più bassi, non arriviamo neanche a un 10%, ma neanche al 5% arriviamo di quelli azionari per quanto riguarda i BIT, insomma, e questo la dice lunga, quindi siamo ancora ben distanti da avere tanti capitali fermi e bloccati all'interno degli ETF di Bitcoin. Quindi fase iniziale, boom iniziale, successo iniziale c'è stato, è scorretto paragonarli all'SP500 come ETF, perché quelli sono ETF di mantenimento, quindi non possiamo paragonare l'accelerazione, ma possiamo paragonare, secondo me, il successo avuto, tant'è vero che in termini di flow questi primi mesi sono stati quasi paragonabili a quelli standard dei mercati tradizionali. E questo è molto rilevante. La domanda però a questo punto è, ma chi li ha comprati questi ETF Bitcoin, gli istituzionali o meno? C'è un'analisi che possiamo prendere in considerazione, quella relativa all'analista di Bloomberg, di cui non ricordo mai il nome, che è impronunciabile, comunque lo seguo anche su Twitter, ragazzi, potete anche andarlo a seguire, che ha indicato una serie di dati importanti, ed eccolo qui, Balkunas dovrebbe essere, indicando che in pratica, facendo una semplice divisione, insomma, aritmetica, ha visto una media di 250.000 trade al giorno sul ETF di BlackRock, con una size di 326 share, in pratica, dividendo per milioni, sono circa 13.000 dollari investiti per singola share. E questo significa, in pratica, che lui poi ne deriva, che questo gli suggerisce che i trade sono stati fatti da investitori non professionali. In pratica, secondo questa analisi, sono i retail che sono in questo momento catapultati, si sono catapultati su Bitcoin, innescando questa struttura rialzista, e non sono stati gli istituzionali, perché i dati attualmente mostrerebbero degli acquisti medi di circa 12-13.000 dollari, che sono essenzialmente pochi per un investitore istituzionale, assolutamente, quindi, se questi dati sono correttamente interpretati, allora potremmo tranquillamente dire che la view di Eric Balkunas, la lista di Bloomberg, potrebbe essere corretta, e che quindi questa IP iniziale non sia addirittura dovuto agli istituzionali. C'è anche un altro dato che potrebbe essere correttamente ragionato, cioè gli istituzionali, le aziende, eccetera, per fare questo tipo di investimenti, intanto devono renderli pubblici, poi eccetera, quindi si saprà, però essenzialmente hanno bisogno anche di tanti tempi tecnici maggiori. Due mesi sono sufficienti? Nì, non sono un gran numero a livello mensile, cioè servirebbero più giorni per un investitore istituzionale, per mettere in atto tutte quelle attività che sono utili per poi andare a investire una parte dell'equidità aziendale su Bitcoin. Insomma, non è un ETF standard, è chiaro, quindi probabilmente deve essere tutto schedulato, approvato, eccetera, c'è bisogno di tempi tecnici. Due mesi non sono pochi, però non sono neanche così tanti, quindi effettivamente i tempi tecnici per far affluire tanti istituzionali veri sugli ETF Bitcoin non ci sono stati al momento, perciò potrebbe essere che questo dato che Eric Balkunas va a indicare potrebbe essere realistico, accettabile. Chi ha comprato quindi gli ETF di Bitcoin in questa prima fase? Probabilmente i retail che magari volevano investire su questa cripto da tempo e che non avevano mai avuto la possibilità di farlo perché magari non volevano assumersi tutti i rischi dell'opening di un exchange wallet, delle piattaforme centralizzate degli exchange che permettevano lo scambio, del detenere i Bitcoin e della tassazione di Bitcoin che diventa più difficile qualora non sono dichiarati, vanno dichiarati e quant'altro, invece l'ETF rende tutto molto più semplice, soprattutto rende più semplice il passaggio dalla Fiat Money all'investimento invece di passarlo appunto dagli exchange e convertirlo. Perciò probabilmente in questa prima fase abbiamo visto questo boom a dei prezzi derivato esclusivamente da investitori retail, magari anche qualcuno ben benestante e magari pochi istituzionali che magari erano già pronti, che noi non vediamo in questo momento nei prezzi medi, in quelli che sono stati i calcoli dell'analista di Bloomberg perché semplicemente magari vengono spalmati, quindi sono un numero esiguo e vengono spalmati. Allora, questa cosa è negativa da un certo punto di vista, positiva da un altro punto di vista, perché? Perché da un punto di vista oggettivo questa finestra di visione di dati che abbiamo visto finora è rappresentativa fino a un certo punto. Non è molto rappresentativa, però abbiamo diverse considerazioni secondo me da fare. Ditemi anche la volta quello che pensate, per esempio in questo contesto, perché è molto importante anche l'opinione di ognuno di noi. A proposito ragazzi, ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto lasciatemi i pollicioni, per questo è un video molto ragionato e molto studiato che secondo me dobbiamo tenerci in pancia per tanti tanti mesi ragazzi, quindi sui pollici mi date una mano. Però l'idea è questa. I retail entrati hanno dichiarato che c'è un grande successo dell'ETF Bitcoin che è piaciuto tantissimo. Forse l'accelerazione maggiore di tutti i lanci, diciamo, degli ETF. Però non ci sono gli istituzionali ancora. Ora, gli istituzionali cosa faranno? Entreranno o no in questo ETF perché hanno visto che magari sta avendo tanto successo? I wealth manager dei ETF fund andranno a consigliare questi ETF anche alle aziende? Sarà un business anche per le aziende? Seguiranno Michael Saylor per quanto riguarda questa fase qui e quindi fare quello che ha fatto Michael Saylor con MicroStrategy, per esempio? Sì o no? Questa è la vera domanda. Secondo me in questo momento gli istituzionali stanno guardando di buon occhio Bitcoin perché il successo lo ha. Il prezzo che si è, diciamo, è salito parecchio è sicuramente una variabile apprezzabile dagli istituzionali. Il fatto che molte delle aziende che precedentemente avevano abbracciato Bitcoin, in questo caso c'è un caso storico che è quello di MicroStrategy, hanno avuto un successo in termini aziendali notevole dovuto proprio, vabbè, sicuramente anche alla pubblicità che hanno ottenuto per il fatto che erano aziende che investivano in Bitcoin, questo ovviamente col passato del tempo verrà meno, però anche da un punto di vista di cash flow, di stato patrimoniale, di valorizzazione, perché detenendo Bitcoin hanno valorizzato moltissimo, no? la loro azienda. Questa cosa potrebbe decretare, diciamo, l'era del Tesla era, diciamo così, quindi l'evento che avevamo già visto con l'ingresso di alcune aziende che magari vanno a posizionare una parte della loro liquidità in Bitcoin per il mantenimento del valore, ecco. Allora, lì potrebbe essere interessante, questa volta il mezzo cede anche molto facile e regolamentato, che sono gli ETF, potrebbero farlo con grande tranquillità. Io dico che se succederà una cosa del genere basta una miccia che accende veramente tutto quanto e quindi potremmo assistere a quel punto all'inserimento, all'abbio di questo processo dalla prima azienda, tutte seguiranno a ruota. Di conseguenza l'avvento anche del fatto che questi prezzi che abbiamo, diciamo, la questione è legata al fatto che questi prezzi che abbiamo visto in questo momento non sono stati sostenuti da istituzionali, bensì da retail, più qualche istituzionale sporadico, direi così, ci porta a un'altra conclusione. È pericoloso azzardare in questo momento conclusione nel dire gli istituzionali stanno entrando a mani forti su ETF, sì, è pericoloso, però c'è anche molto spazio di crescita in futuro e quindi questo che abbiamo visto in questo momento potrebbe essere una scintilla, cioè soltanto l'inizio di quello che potrebbe arrivare se effettivamente si innescasse una spirale di investimento anche da parte dei capitali aziendali. Io credo che le aziende come BlackRock, Fidelity, eccetera, vorranno andare verso quella direzione, vorranno spingere i loro clienti business a investire su questi strumenti perché per loro è un business, parliamoci chiaro, quindi due devono essere le variabili. Primo, pressare sulla bontà dell'investimento anche la parte aziendale, quindi la parte istituzionale. Due, non creare tanta volatilità barra ribassi di prezzi. Allora questa cosa, secondo me, è quella che gli istituzionali vorranno vedere per iniziare a dire, ok, prendo in considerazione l'investimento in Bitcoin e ne vado a diversificare, perché parliamoci anche chiaro da un certo punto di vista chi è un istituzionale molto grosso non mira tanto a guadagnare importanti cifre con il suo patrimonio, bensì mira a mantenere potere d'acquisto, quindi pari passo dell'inflazione, guadagnare sull'inflazione, fare meglio del mercato, questo sì, ma non parliamo di voglia di andare a fare più 200%, cioè non è quello il concetto che c'è dietro, ma è quello di partecipare magari a una rivoluzione e soprattutto non perdere o rischiare il meno possibile qualora si faccia un passo del genere. Perciò vorranno vedere, parliamoci chiaro, meno volatilità dei prezzi. Meno volatilità dei prezzi su Bitcoin e meno rischio su Bitcoin. Quindi, ok, fasi di up and down, perché ci sta anche per far entrare tutti quanti, però dovranno essere controllate, tra virgolette, quindi non dovremmo assistere a fasi molto pronunciate di ribasso. Questa cosa darebbe anche un po' il ruolo a quello che potremmo vedere nei prossimi mesi, cioè degli andamenti di Bitcoin più laterali, più lineari nei trend rialzisti e delle fasi correttive che si infilano in barra di congestione. Quindi, se questa cosa sarà confermata nei prossimi mesi, vedremo delle strutture di correzione di Bitcoin più lineari, meno invasive degli anni precedenti, altrimenti vuol dire che c'è ancora tanta strada da fare. Io la vedo così. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se secondo voi, in questo caso, per fare arrivare gli investitori istituzionali che ora gli strumenti li hanno tutti e magari stanno già valutando come agire sul mercato, secondo voi serve un prezzo molto basso o bassa volatilità? Fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Scrivetelo nei commenti. Andiamo a vedere l'ultimo grafico, perché volevo farvi vedere anche come questa fase ribassista di questi giorni è anche visibile proprio negli inflow e outflow di Bitcoin. E a questo punto poi mi collego all'ultimo punto del video, cioè alla questione se siamo entrati nell'era in cui stiamo creando un'istituzionalizzazione del business delle criptovalute e a quel punto ci vorranno un po' di anni e questi anni saranno anni di iper ingresso di capitali nei mercati cripto che sanciranno il successo di questo mercato, ma sposteranno la vera domanda che ve la dico alla fine del video sul quale bisognerà riflettere di un po' di tempo, dando anche molte soddisfazioni agli speculatori barra investitori ma mettendo seriamente in dubbio l'attività per esempio di lungo periodo su questo mercato perché c'è una domanda alla quale veramente dovremmo obbligatoriamente rispondere. Vi faccio vedere che in questi ultimi giorni, negli ultimi due, i flow di Bitcoin sono stati negativi. In primis quello della giornata del 18 e anche quello del 19, giornata di ieri, è stato negativo. Allora qui abbiamo avuto due giornate negative come non si vedevano da tantissimo tempo soprattutto l'outflow di ieri è stato consistente ma non perché ci siano stati outflow rilevanti ma semplicemente perché Grayscale continua il suo outflow naturale da prezzi senza senso in termini di commissioni perché Grayscale ha delle commissioni estremamente alte rispetto agli altri ETF quindi vorrà vedere fino a dove può tirare la corda ma insomma già si vede dai flussi che sono terribili ma ieri sono stati 6.000 neanche tanto alti ma guardate le altre linee che sono quelle rilevanti non ci sono ingressi. Allora questo è il vero dato che finora non ho sentito molto parlare di questa cosa per esempio guardate questo dovrebbe essere il Bitco ha 0 i flussi da qualche giorno anche questi ultimi 0 flussi qui solo nella giornata di ieri 0 flussi e qui è stata anche Winstone 3 con 0 flussi da due giorni in pratica la giornata di ieri hanno tenuto solo BlackRock e Fidelity e qualcosa su Bitwise ma veramente pochissimo su Bitwise 38 Bitcoin solo BlackRock continua con un influsso che però è stato il più basso il più basso dal 21 febbraio no anche più basso del 21 febbraio quindi dobbiamo in pratica andare veramente al 6 febbraio eccolo qui allora il 6 febbraio è stato il la plusso più basso di quello di ieri quindi veramente poca roba la stessa cosa per quanto riguarda Fidelity anche se Fidelity aveva iniziato già a rallentare dal 14 marzo quindi in realtà questo dato negativo deriva dal fatto che si sono fermati speriamo per un tot di tempo ecco per un breve periodo i flussi su Bitcoin dobbiamo continuare a monitorare questo tipo di dato perché è molto importante e perché potrebbe dare risposta su anche sulla questione che vi dicevo prima legata al fatto se qualche istituzionale poi inizia a metterci mano no se questi sono flussi che noi abbiamo visto in entrata solo da retail e basta e da qualche istituzionale così si fermeranno i flussi di Bitcoin il prezzo dovrà stabilizzarsi a quel punto tenendo in considerazione anche gli outflow di Grayscale che continueranno perché fino a quando loro non vanno a sistemare le commissioni ci saranno outflow che poi probabilmente rientrano però c'è sempre la questione della tassazione e quindi ne rientrano meno rispetto a quelli che erano precedentemente questo è il concetto lo avevo spiegato in un video precedente quindi questo dato veramente molto importante andiamo alla fine del video e alla domanda finale allora se siamo in una nuova epoca in una nuova era in cui stiamo andando a istituzionalizzare il mercato delle cripto e Bitcoin stiamo passando in pratica da una fase di nicchia di mercato a istituzionalizzazione di mercato come? con l'applusso di capitali perché è la prima cosa che succede in questo tipo di eventi cioè la prima cosa che avviene non è l'uso di quei capitali andiamo a vedere cosa farci eccetera ma è l'arrivo dei capitali primo arrivano i capitali poi si generano le opportunità da un punto di vista di business perché in questo caso non ci sono nell'ambito ancora delle cripto quindi se stiamo nella fase di raccolta capitali siamo in una fase di accumulo accumulo istituzionale che ha visto praticamente soltanto una miccia accendersi non abbiamo visto praticamente nulla durerà anni non mesi durerà anni ci vorranno almeno due, tre anni quattro anni per una cosa del genere forse essendo i nostri mercati molto più veloci rispetto agli anni precedenti ci vorrà un po' di meno ma io tre anni non li toglierei mai a questa fase di accumulo almeno rispetto anche a una velocità enorme della nostra attuale capacità diciamo di reazione rispetto agli anni del 2000 per esempio quando fu furono approvati gli etf come quello dell'oro eccetera quindi io tre anni se siamo in una fase di istituzionalizzazione accumulazione di capitali istituzionali nel mercato delle cripto non la toglierei assolutamente in questo contesto noi dovremmo assistere al flow a queste tabelle di flow che continuano insistentemente ad essere presenti intanto la questione grayscale prima o poi verrà terminerà quindi è vero ancora abbiamo queste fasi di up and down perché siamo ancora nell'ottica in cui grayscale sta facendo un torno dei bitcoin quindi escono da una parte e rientrano dall'altra però a un certo punto questo fenomeno finirà e questi flussi negativi non ci saranno più quando questi flussi negativi non ci saranno più ci saranno i flussi negativi che vediamo qui quelli che per esempio sono avvenuti su bitcoin normali che possono avvenire una volta ogni tot di tempo e quindi non non sempre a quel punto potremmo avere stabilità del prezzo probabilmente migliore rispetto all'attuale situazione che subisce molto il all'outflow di grayscale e dovremmo anche capire se effettivamente gli inflow continuano ad avvenire in maniera costante perché quella la chiave dei prossimi anni e poi la domanda finale finito questa fase di eventuale istituzionalizzazione del mercato crypto che è la fase più importante che stiamo vivendo dalla nascita di bitcoin in pratica senza ombra di dubbio a quel punto che cosa succederà gli istituzionali vorranno restare in un asset che l'unica cosa che dà è un'eventuale protezione del valore rispetto all'eventuale inflazione esiste questo meccanismo sarà sposato questo meccanismo il mercato sposerà questo meccanismo oppure il mercato delle crypto saprà dare altri ruoli altra utilità non solo a bitcoin ma anche alle altre crypto che probabilmente arriveranno se ci sarà il successo di bitcoin arriveranno gli etf anche sulle altre criptovalute saremo in grado di dare un valore reale perché in questo momento l'unico valore su cui gli investitori stanno spendendo il loro tempo per investire e le loro risorse è quello legato alla protezione del capitale teorica cioè al mantenimento del valore rispetto all'inflazione cioè stanno diversificando una valuta tra virgolette questa cosa ha un impatto notevole lo fu anche con l'oro assolutamente però non dobbiamo dimenticarci che la sola funzione di questo tipo non alimenta un fuoco per così tanto tempo quindi questo lungo periodo del mercato delle crypto e di bitcoin potrebbe poi venir meno in maniera molto breve cioè dopo tre appunto anni quattro anni perché poi bisognerà trovare un significato a tutto ciò che faccia presa anche con il pubblico allora questa secondo me è la vera domanda finale cioè del tempo diciamo per parlarne di questa cosa quindi probabilmente a molti di voi potrebbe non interessare però in effetti quando ci poniamo nell'ottica del dire a lungo periodo decenni ve la siete mai posta questa domanda a un certo punto qualcuno si porrà la domanda e dire sì ma ora che ci faccio io con questa roba ok perché il solo mantenimento del potere d'acquisto può bastare è dimostrabile ok ci saranno tante domande a cui dovremmo trovare risposte nei prossimi anni fatemi sapere anche voi cosa ne pensate e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti grazie a tutti